L'hanno chiamata la strategia del doppio binario, provare a concedere una proroga per i concessionari demaniali da un lato e dall'altro andare a gara di evidenza pubblica europea per le concessioni non occupate. Nonostante sia a pieno regime la stagione balneare, tra i balneatori serpeggia la preoccupazione per la famosa direttiva Bolkestein, quella che prevede le gare europee per l'assegnazione delle concessioni demaniali. Una direttiva che va ad incidere soprattutto in Italia e soprattutto sugli stabilimenti balneari 700 in Abruzzo. Nell'incontro che c'è stato ieri all'Aquila tra le associazioni di categoria e la regione Abruzzo si è tentato di trovare una via d'uscita nelle pieghe della direttiva, individuando una possibile soluzione per l'appunto nella strategia del doppio binario, che tenta di salvaguardare le imprese e le famiglie che hanno fatto investimenti sulle proprie attività ricettive. Era necessario incontrarsi per delineare una linea condivisa, poiché c'è questa possibilità della sentenza della Corte di Giustizia che potrebbe arrivare da qui a poco, su una base di ricorso del TAR Lombardia e TAR Sardegna in cui si rimette in discussione anche la proroga del 2015 e 2020 e se questo dovesse accadere il 1 gennaio del 2016 i comuni saranno chiamati a fare queste evidenze pubbliche. Noi ridiamo con il doppio binario, quindi dare un cronco numero che non è di mesi, sono di anni, credo che questo sia un paletto molto importante che possa andare a favore della comunità dei balneatori che su forza dell'articolo 37 del codice dell'anno di radicazione, col diritto di insistenza, 6 anni per 6 anni, hanno fatto degli investimenti, ipotecando non lo stabilimento balneare che non si può ipotecare perché poggio sono bene maniare, ma ipotecando le proprie case non solo una ma anche due.